è arrivato il pacchettino e ho subito unboxato eccola qua prima cover ragazzi eccole si era il mio pacco ed è arrivato le vanse ordinate l'altro ieri ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qua dal cinese no questo è giapponese si chiama nico lei è mia cugina antonella saluta tutti i fan di letta ruta facciamo il taste test dell'acqua che ce l'abbiamo finita quando provi una cosa taste test è fresca è buona un otto io ti amo un otto e mezzo francesco è l'attimo cugino è mia sorella mia cucina cugino e mio fratello questo è tonno buono molto buono allora domani quella metà te sei ingraspata di nuovo è buono ok adesso andiamo ad assaggiare questo molto gustoso poi la metto su youtube e raga voto 10 molto buono delicato ok ragazzi andiamo subito con il tonno questo è il mio salmone non è il salmone sono belli che non mi fanno mai suddiamare le tue il salmone che non mi fanno mai suddiamare le tue Chiara saluto Questa sono io, outfit del giorno Vans, tazzoncini E Vans Il tuo aspetto è lo specchio del tuo podere Frappè, cioccolato e panna Buongiorno con Spartacus Ragazzi stamattina Sì ho visto un episodio di Spartacus Mi sono allenata, ho pranzato, doccia E eccomi qua Scusatemi ma oggi non ci ho fatto proprio caso A vloggare Ci sono andati al centro commerciale Ho preso due cose in saldo E poi ecco la cena Ma voi non potete capire La gente che c'era al centro commerciale Era pieno Pieno Poi dicono al telegiornale 20 miliardi di italiani in vacanza d'agosto Statistiche sballate secondo me Eccoli qua ragazzi Ho preso un chicken hamburger Due cheese, un hamburger E Atatina piccola E poi Coca Cola Sonno mamma mia Ciao ragazzi siamo arrivati a Edromania Siamo qua Dai fa caldo Ragazzi siamo qua Edromania Alice l'avete già vista Dei vecchi video E si sta benissimo Che bello Ali saluta Allora abbiamo fatto Quello scivolo Che vedete è bianco E poi qua Là ce ne sta un altro Che è Bellissimo Però dentro tutto buio Quello è K2 Che forse dopo farò Siamo su banana latte Allora queste sono le patate Corri ragazzi Questa canzone ce l'ha rotto un po' Rirante Dente da dente Però c'è ancora tantissima gente Poi c'è il parcheggio di Domania Molto bello E invece No invece no Abbiamo da dire qualcosa Vero Alice I parcheggi sono storti Vedete Boh C'è pure un incendio Boh Ciao ragazzi Arrivata a casa Sono le sette e mezza Abbiamo fatto gli scivoli Dalle nove di mattina Sono stanchissima Però è stata una bellissima giornata Guardate i capelli Ragazzi ho finito adesso Di farmi la doccia E adesso Spartacus Oggi un po' di lavoretti a casa L'abbiamo sistemato Sistemata tutta la camera R'ordinato tutto Come sempre Ciabatte nuove E anche dei sandali nuovi Qui abbiamo la valigia Ciao amici Buongiorno Stiamo andando a fare colazione E poi parrucchiera Parrucchiera Guarda che capelli Mia sorella Wow Spero che questo video vlog Vi sia piaciuto E se è così Mettete un bel mi piace Ciao a tutti Ma Grazie a tutti.